L'Università di Foggia ha un grosso impegno, deve costituire il nucleo di rilancio del nostro territorio. Nel caso specifico non ci dimentichiamo che il tavoliere è stato il granare d'Italia. Il granare d'Italia e quindi noi dobbiamo riportare questa funzione centrale a livello non solo della provincia di Foggia, della regione italiana, ma dell'Italia. Da qui l'importanza dell'Università, che deve fare, dicevo prima, da nucleo, da cerniera tra le istituzioni e tutte le piccole e medie industrie. Nel caso specifico quelle che si occupano di agricoltura o di alimenti. Le aziende si impegnano in maniera autonoma a perseguire un percorso volto alla realizzazione degli obiettivi europei. Questa manifestazione di interesse mutua un'iniziativa del PNRR nell'ambito della missione 4 dei partenerati estesi per le università, dove appunto questa fattispecie della manifestazione degli interessi è stata concepita. In quel contesto lì l'Europa metteva delle risorse attraverso il PNRR. Quello si fa a costo zero e degli operatori si attivano per una concertazione territoriale e per seguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Che cosa si fa attraverso questo contratto di rete? Circa 600 ettari di terreno che sono nella disponibilità dell'ASP vengono convertiti ad un'agricoltura biologica e sue evoluzioni come il biodinamico, in piena linea con quella che è la strategia Farm to Fork, che vuole che almeno il 30% delle terre europee entro il 2030 vengano condotte ad agricoltura biologica. Quindi una dimensione di tipo ambientale, qualità per la salute umana, ma anche degli obiettivi di tipo sociale, perché l'azienda De Piccolelli si occupa come mission principale quella di offrire servizi alle persone ed espande le proprie iniziative aprendo all'agricoltura sociale. Inoltre c'è una dimensione economica, perché i piccoli agricoltori vengono garantiti nel lungo periodo per lo sbocco dei propri prodotti su mercati internazionali. Teniamo conto che la Bio Organica Italia è leader a livello nazionale nel settore biologico ed è parte del gruppo Lea Nature, che è leader europeo nell'ambito del biologico. Questo vuol dire che andare sul mercato internazionale, che è un presupposto essenziale, che sta in tutte le politiche di sviluppo, viene realizzato fattivamente con un'iniziativa degli attori del territorio e non attraverso un finanziamento pubblico.